E' la prima volta che esiste a Roma, capitale d'Italia, un garante dei diritti degli animali. Ricordo che da due anni ero parlamentare e l'ho seguita e votata con orgoglio la tutela della biodiversità degli animali all'articolo 9 della Costituzione. Andiamo tra le prime città italiane ad aver istituito e regolato questa figura che è molto importante, perché Roma ospita tantissimi animali, tantissime specie, selvatiche, da compagnia. E' giusto che abbiano un garante, che dia voce a loro, che voce non hanno, perché i loro diritti siano assicurati, garantiti e tutelati. Grazie. 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 Grazie.